Ciao ragazzi, mi presento, sono internet, sapete sono un po' anziano anche se non sembra, perché come dite voi sono al passo con la moda, anzi vado di moda, io navigo, io scrivo, io mi fotografo, io mi condivido, io mi sdoppio, insomma faccio tante cose e custodisco un sacco di notizie, infatti tutti si rivolgono a me per fare ricerche, per studiare, per giocare o per andare sui social, io posso dare tante opportunità ma posso creare tanti problemi, ma in questo caso non prendetevela con me, sì perché la colpa non è mia, bensì di tutti coloro che cercano di far uscire la mia parte peggiore e sono tanti purtroppo a farlo, ma per fortuna a difendermi c'è la polizia di stato che smaschera le persone cattive che mi usano per creare le trappole virtuali, un consiglio prima di connettervi con me, aprite il cervello e usate l'intelligenza e soprattutto non usatemi per far del male, forse qualcuno mi renderà per pazzo perché è ovvio che io non sono internet, eppure mi sono voluto mettere nei suoi panni e per un momento spiegare come vorrei che fosse il mio internet, ragazzi una cosa voglio farvi capire, quando navigate pensate se è giusto ciò che state facendo, ebbene se io fossi internet la penserei così, e voi? grazie a tutti grazie a tutti